e aziende vitivinicole, organizzazione, finanze e controllo. Oggi ci occupiamo di le persone aziende vitivinicole nelle attività di gestione organizzativa, finanziaria e di controllo. Abbiamo il patricinio dell'Irbo, l'Istituto regionale del vino e dell'olio e Diandaf Sicilia, l'associazione nazionale di direttori amministrativi e finanziari. Chiedo a Filippo D'Amico prima e poi a Sebastiano Di Bella di fare l'apertura dei lavori, uno in qualità di presidente Andrò in Sicilia e l'altro in qualità di presidente dell'Irbo. Successivamente avremo l'intervento sulle prospettive di crescita e cambiamento dell'era post-Covid. Insomma, Leonardo Taschetta ci racconterà quel che più gli aggrada in base a, essendo il presidente di una cantina importante in Sicilia, quale Cantina Colomba Bianca, seguiranno due interventi un po' più tecnici, uno sul controllo di gestione e marginalità sul prodotto, fatto da Filippo D'Amico, e uno sulle strategie per accrescere la produttività, da me medesimo, Francesco Messini. Bene, a questo punto non parlo oltre. Filippo, a te la parola. Sì, innanzitutto buonasera a tutti, grazie a tutti i partecipanti. Dopo interverrò nella qualità di relatore, però mi piace spendere due parole rispetto all'Andaf, che tantissimi conoscono, tra l'altro vedo che tantissimi associati si sono collegati, quindi salute colleghi che purtroppo da un po' di tempo ci vediamo solo in remoto e non riusciamo più a vederci in presenza. Andaf, perché non la conoscesse, è un'associazione che non ha scopo di lucro ed è l'Associazione Nazionale dei Direttori Amministrativi e Finanziari. È presente in tutta Italia con circa 1700 iscritti, in Sicilia siamo una sessantina, sono iscritti, come dicevo prima, tutte persone che in qualche modo hanno a che fare con temi di natura economica, quindi dirigenti e responsabili amministrativi. Cosa si fa in Andaf? Di fatto è quello che stiamo facendo oggi, cerchiamo di fare formazione sia tra associati e soprattutto poter scambiare informazioni, idee anche diverse rispetto alle diverse regioni di appartenenza. Io sono il Presidente della Sicilia da diverso tempo, è una cosa che mi piace fare proprio perché è un modo per fare formazione a noi stessi e fare formazione agli altri. Normalmente organizziamo nel corso dell'anno una decina di eventi, con la differenza che prima li organizzavamo in presenza, purtroppo in questo periodo utilizziamo la nuova tecnologia. Detto questo restituisco la parola a Francesco, che la dà sicuramente il Presidente e colgo l'occasione per salutare nuovamente tutti i partecipanti, in particolare di tutti i colleghi Andaf e di tutta Italia che si sono collegati. Bene, allora senza por tempo in mezzo, Presidente, a lei la parola. Buonasera a tutti, io sono Sebastiano Di Bella, sono il nuovo Presidente dell'Istituto regionale del vino e dell'olio, che immagino la maggior parte dei collegati sappiano cosa è, ma per chi non lo sapesse è un ente regionale e l'ente regionale, anzi che si occupa specificamente della ricerca, promozione, trasferimento tecnologico in tutto ciò che riguarda le produzioni di olio e di vino siciliane. Ci ho detto, l'attuale governo ha puntato sull'Istituto, è uno dei nostri compiti che in qualche maniera condividiamo, di cui condividiamo l'importanza con voi e è quello della formazione professionale e della ricerca e della formazione professionale. La formazione professionale è indispensabile e oggi il mondo è altamente, diciamo, tutti gli aspetti della vita economica e produttiva sono altamente professionalizzati, altamente tecnici e quindi richiedono una preparazione per affrontare, da un lato, per fare, diciamo, per corrispondere alle richieste normative che ci vengono sempre maggiormente e sempre normalmente presentate dalla pubblica amministrazione e dal governo e dall'altro per corrispondere alle sfide del mercato. Uno deve stare, come dire, deve essere sicuro delle proprie cose, per capire come è combinata, come è strutturata la propria azienda, qual è il rapporto costi-benefici e dopodiché essere pronto per le sfide del mercato. Quindi ben vengano occasioni come queste in cui ci sono agenzie, imprese come la vostra che si mettono a servizio, che sono oggettivamente al servizio delle imprese per farle, come dire, per fare, per aggiornarle e per aiutarle a stare sul mercato, ad affrontare le sfide del mercato. Quindi buon lavoro e speriamo di poter avere un'ulteriore occasione di incontro. Bene, grazie mille per il suo intervento. A questo punto, Leonardo Taschetta, se vuole raccontarci un po' di Colombo Bianca, è un nostro, insomma, avremo modo di... Spoiler un attimo, insomma, lo conosciamo bene perché è un'azienda che seguiamo da tempo, quindi avremo modo di capirne di più. Grazie. Bene, buonasera a tutti e grazie, grazie per avermi invitato a parlare. Io, a dire la verità, da umile lavoratore della vigna quale mi definisco spesso dinanzi a gente del vostro calibro faccio un po' fatica a esprimermi, però cercherò di dare un mio piccolo contributo. Guardate, mi è stato dato un tema, le prospettive di crescita e cambiamento nell'era del post-Covid. Io, forse vi deluderò, però nella realtà io sono convinto che nessuno sa realmente come si evolverà la situazione del post-Covid. Non credo, diffido sempre da coloro che hanno le stere di cristallo che sanno un po' tutti, però ci sono alcuni punti che secondo me sono validi in qualunque latitudine, in qualunque parte del mondo. Ribadisco, io non so cosa succederà, però la vita sia delle persone fisiche che delle persone giuridiche è perennemente costellata da momenti difficili. La differenza fra uno e l'altro, fra un soggetto e l'altro, quindi non sta, se uno è fortunato e l'altro no, sta nel come vengono affrontati i momenti difficili. E queste si possono affrontare in diverso modo, si possono affrontare piangendosi continuamente addosso, pensando di essere le grandi sfortune che ci hanno colpito. E c'è un altro metodo invece, che è quello di incominciare a capire cosa possiamo fare noi. Noi in generale, e cercare di farlo, in generale nelle aziende, ovunque, spesso ci mettiamo a, ribadisco, a pensare che tutti i nostri difficoltà vengono da fuori, e invece perdiamo di vista quello che è le cose che dobbiamo curare all'interno della nostra azienda. Per esempio, il tema di questa sera, che è il motivo principale della riunione, è come attivare dei veri controlli di gestione all'interno delle aziende. Ed è incredibile quello che esce fuori. Una volta pensa di avere sotto controllo tutto, e invece quando incomincia a esaminare i numeri, quando incomincia a fare i raffronti, quando ha dei report, quando ha dei sistemi che ti arrivano i report immediati su tutta una serie di attività che fai, ti rendi conto di quanto c'è da fare. Io credo che questo è un periodo difficile per tutti, è inutile negarlo, ma se noi pensiamo che qualcuno ci deve risolvere i problemi, non ce li risolverà mai nessuno. Allora bisogna cosa fare? Bisogna dedicare sicuramente più tempo a come migliorare i nostri prodotti, come renderli più belli, come renderli più appetibili. Io credo che c'è tanto lavoro da fare, compreso ad esempio come imparare. Un anno fa nessuno di noi poteva pensare di potersi fare questo tipo di riunione online. Anzi, se qualcuno chiedeva cos'era Zoom, si diceva una specie di musica, adesso invece tutti siamo, ne conosciamo tutti e tutti scarichiamo e seguiamo eventi. Quindi questo è un lavoro fondamentale da poter fare. Io credo che tutti ci ritroveremo ad operare in un contesto di profonda trasformazione. Per essere resilienti le aziende, per poter ripartire, è necessario veramente esaminare ogni aspetto, cercare di trasformare ogni minima sacca di ricchezza nascosta nelle pieghe dei nostri bilanci, delle nostre attività, cercando di eliminare il più possibile le diseconomie che sono assolutamente insostenibili in momenti di crisi. Io credo che ci sono alcuni concetti che saranno fondamentali per il futuro, per esempio il concetto della sostenibilità. La sostenibilità ormai è ovunque, basta guardare una bella fetta di pubblicità, qualunque azienda oggi parla di sostenibilità. Ed è una delle cose sicuramente che dobbiamo attenzionare, termini come il Green Deal, come il Farm to Fork, saranno tutti termini che noi del mondo del vino saremo costretti ad avere a che fare. Per quanto mi riguarda, come dire, stanno sfondando una porta aperta a Bruxelles per questo tipo di programmazione. Io ho sempre sostenuto che la Sicilia dovrebbe fare una scelta forte, per esempio sul biologico. Vuoi o non vuoi, la gran parte di gente al mondo oggi dà un po' di colpe anche del DIROS al fatto che abbiamo in qualche maniera ha violentato l'ambiente. Quindi il futuro e soprattutto il food in generale, quindi anche il vino, dovranno andare verso qualcosa di più pulito, più sano. Le aziende in generale, poi cerco di stringere, le aziende normalmente, io dico sempre, o crescono, o ristagnano, o muoiono. Noi per questo motivo tutti siamo costretti a crescere, tutti siamo costretti ad operare, ma non possiamo pensare che le aziende possono andare come variabili singole senza tener conto di quello che ci circonda. Quindi dobbiamo assolutamente tenerne conto. Quello che è importante, mi collego al concetto che ho detto all'inizio, quello che è importante è concentrarci su quello che possiamo fare noi. Ognuno di noi è potente sulle cose che dipendono da lui e invece è debolissimo sulle cose che dipendono dagli altri. e allora anche cambiare gli altri diventa più facile se lavoriamo su noi stessi. Questo è un concetto che secondo me è fondamentale e qualunque imprenditore che ha a che fare con gente che deve stimolare, che deve operare, che deve spingere verso un'unica direzione di lavorare in squadra e quant'altro è fondamentale. Quindi chiedersi conteneamente cosa posso fare io per migliorare quello che mi attorno. Questo è un concetto che secondo me è fondamentale. quindi lavorare, lavorare sempre e cercare sempre di individuare. Quando noi mettiamo il soggetto dei nostri problemi al di fuori di noi, io ritengo che sia sempre difficile poterlo fare, poterlo risolvere. Allora, ad ogni imprenditore, però, per quanto mi riguarda, posso chiudere con un concetto. io credo che la qualunque qualunque attività umana alla fine, dopo tutta una serie di motivazioni, sfocia sempre nella ricerca della felicità. Non credo che ci sia persona al mondo che non vada verso la ricerca della felicità. C'è un solo problema che nella gran parte dei casi la gran parte di gente si spinge a cercare a concentrarsi su di sé e invece la vera felicità si ottiene quando si lavora per la felicità degli altri. Questo è un concetto che secondo me uno che produce qualunque tipo di servizio, qualunque tipo di bene deve tener conto. Se tu lavori per la felicità degli altri perché soddisfi dei bisogni, perché lo rendi allegro e noi del mondo del vino siamo maestri in questo. Nessun momento bello della vita di una persona che so, hanno a tavola una bottiglia di Coca-Cola. Sicuramente una bella cena, un matrimonio, un evento particolare, c'è sempre una bottiglia di vino. Allora noi dobbiamo concentrarci a farlo bene, a farlo sempre migliore, a cercare di fare squadra, a cercare di mettere assieme tutte le risorse della nostra terra perché la Sicilia io sono convinto che merita molto di più di quello che oggi ha come ricaduta di ricchezza nei confronti dei produttori. io credo che alla fine di tutto, nonostante questa pandemia prima o dopo finirà o comunque impareremo a gestirla e quando finirà vivremo una specie di periodo post-guerra, un periodo di grande crescita, sicuramente ci sarà una ripresa dell'economia. Sono convinto che i governi metteranno ancora liquidità nelle economie. Oggi è il momento di fare debito buono, come ha detto il nostro presidente del Consiglio. Debito che, perché mai chi come me ha i capelli bianchi si ricorda quando pagavamo il 25% di interesse. Adesso si prendono soldi quasi gratis, quindi perché non approfittare? Oltretutto un grande imprenditore che mi piace ricordare del mondo del vino, Diego Planeta, una volta mi disse ricordati, presidente, tenere sempre le aziende liquide nel breve e più che indebitate possibile nel lungo termine. Oggi è tempo di fare debiti, magari a tassi fissi, a tassi molto bassi, e poi cercare di avere le idee per mettere a frutto questi soldi e farli in qualche maniera fruttare. Allora, credo che dobbiamo prepararci anche con una serie di idee. La crisi spesso sono, io dico che sono crisi di idee. ci saranno dei momenti belli nel futuro, ci saranno tante risorse, bisognerà essere capaci di organizzarci, di gestirle bene, di essere propositivi, di fare progetti credibili, di circondarsi di gente di livello alto. Questo è stato sempre il mio pallino. Io dico che in azienda a tutti coloro che ognuno nel proprio settore è più bravo di me. Questo mi ha permesso di poter crescere e di poter oggi venire a parlare a voi della mia esperienza senza sapere nemmeno perché, per quanto mi riguarda. Sono cresciuto grazie al fatto che mi sono circondato di gente che sono veramente brava. Quindi, posso semplicemente chiudere dicendo ecco, implementato un vero controllo di gestione, magari con lo studio 150, gli faccio un po' di pubblicità perché se la meritano, sono bravi. Quindi, buon lavoro, tanti auguri a tutti e buon proseguo del lavoro per questa sera. Grazie. Grazie mille per l'intervento che appunto ad ampio spettro racconta un'evoluzione possibile e grazie molto. Filippo, a te la parola. Sì. vorrei condividere alcune slide che ho preparato per l'incontro di oggi. Allora, nuovamente buonasera, ringrazio il presidente per quello che ha detto argomenti ha trattato diversi, ha torcato diversi tasti in pochi minuti ma gli abbiamo sempre riconosciuto queste capacità imprenditoriali e comunicative che veramente sono importanti. Oggi, come dicevamo all'inizio, parleremo di controllo di gestione e marginalità. In particolare lo faremo nel mondo vitivinicolo, quindi nel settore dei vini. Ripeterei in qualche modo quello che è stato detto prima. oggi il nostro paese e non solo a livello globale stiamo vivendo un momento particolarmente delicato e difficile. Tutti sappiamo il perché ma ciò che è importante in questo momento a mio parere è quello di cercare di implementare all'interno dell'azienda degli sistemi che ci consentono di pianificare forse sbagliato utilizzare il termine quello che riusciamo a pianificare. Oggi sicuramente è più difficile rispetto al passato perché purtroppo i mercati sono cambiati tantissime cose presente facevo prima riferimento ai sistemi tecnologici che utilizziamo adesso ma prima infatti eravamo abituati ad operare in maniera diversa soprattutto noi che come società di consulenza seguiamo le aziende direttamente presso l'impresa non guardiamo solamente numeri ma bensì guardiamo prima il business conosciamo l'azienda ci interfacciamo con le figure apicali dell'azienda e stiamo insieme a loro proprio per implementare modelli che siano quanto più dare supporto alla strategia dell'imprenditore un modello che noi proponiamo e che è quello che tantissime aziende già seguono altri non lo fanno e implementare all'interno dell'azienda un modello di controllo di gestione e alla fine del mio intervento farei anche un cenno rispetto al codice del crisi d'impresa che sapete che è stato spostato al mese di settembre in particolare all'articolo duemila e ottantasei e di questo ne parleremo alla fine oggi a mio giudizio è indispensabile per qualsiasi azienda e qualsiasi imprenditore cercare di verificare bene soprattutto non solo a consuntivo ma soprattutto pianificare a preventivo quello che sarà il futuro sia dal punto di vista economico che finanziario della propria azienda ma parliamo spesso di controllo di gestione che è un argomento ovviamente molto ampio cos'è di fatto il controllo di gestione il controllo di gestione è un sistema che consente all'azienda di ottenere delle risposte veloci diciamo a preventivo e non a consuntivo quindi vuol dire pianificare gli obiettivi che si intendono raggiungere nel breve periodo nel momento in cui andremo a parlare anche di budget ovviamente a lungo periodo parleremo di piano industriale è uno strumento che è indispensabile a mio giudizio rispetto non solo nelle grandi imprese qualche tempo fa qualcuno un imprenditore mi diceva sono degli argomenti veramente interessanti ma sono forse più utili alle grandi imprese io ovviamente risposi sì ma le grandi imprese prima di diventare tali erano anche loro piccole imprese e poi con il tempo si sono organizzati e sono diventate grandi imprese quindi è un modello che serve a tutti dalla piccola alla grande imprese chi è la persona che si occupa di controllo di gestione può essere o una risorsa facendo parte dell'azienda o un consulente esterno e questo questo signore in effetti lo chiamiamo il controller il controller è una risorsa che deve avere sicuramente si deve interfacciare con tutte le funzioni apicali e non solo delle aziende e per fare questo mestiere ovviamente ha bisogno anche di tecnologia in questo caso è sempre utile o forse anche necessario utilizzare appositi software un software gestionale un software gestionale che soprattutto alla fine non deve fare altro che interfacciarsi anche con i dati che provengono dalla contabilità generale seppur poi alla fine esplicitate in maniera diversa noi sappiamo che siamo tutte le aziende sono obbligate a tenere una contabilità generale perché è così previsto dal nostro sistema quindi dal nostro codice civile sappiamo conosciamo tutto il bilancio però ovviamente non può dare mai l'imprenditore in qualche modo la proiezione dei dati se non attraverso l'utilizzo di un sistema di contabilità industriale o contabilità analitica nel momento in cui andiamo a implementare un modello di controllo di gestione quindi accediamo in parte a dati di natura diciamo contabili ma allo stesso tempo gestionalmente attingiamo altri dati che normalmente non sono riportati in contabilità per fare un esempio se andiamo a calcolare a rilevare il TFR di un dipendente normalmente in contabilità lo facciamo al 31-12 invece per chi implementa un modello di contabilità analitica il 31-12 è tutti i mesi se vogliamo avere una reportistica periodica e costante all'interno del controllo di gestione a mio giudizio è necessario implementare quindi un sistema che consenta di pianificare almeno a breve tempo il futuro dell'azienda quindi vale a dire preventivare creare un documento che lo possiamo chiamare in modo più giusto di chiamarlo è il budget che può essere sia da appunto osservare i dati sia dal punto di vista economico che dal punto di vista finanziario all'interno delle aziende nostri clienti normalmente iniziamo a lavorare su budget già alla fine del mese di settembre per avere dei dati di chiusura preventivi già al mese di dicembre e poi operare a consuntivo e a quel punto evidenziare gli scostamenti che si sono verificati all'interno delle singole poste gestionali il budget quindi non è altro che un documento contabile che come dicevo ha un riferimento temporale di breve periodo quindi non è altro che un documento di pianificazione economico e finanziaria vale a dire un bilancio preventivo se vogliamo utilizzare una terminologia diversa quali sono le principali caratteristiche del budget sicuramente in prima linea sono le linee guida le linee guida devono essere emanate dall'imprenditore dal consiglio di amministrazione quindi non è altro che la strategia che l'azienda decide di intraprendere quindi tracciare delle linee guida l'idea del business l'eventuale diversificazione e ovviamente per inventare questo modello è necessario coinvolgere l'intero organismo aziendale dell'azienda che allo stesso tempo è articolato su diversi centri di responsabilità l'organismo aziendale deve essere caratterizzato dalla condivisione tra tutti i soggetti interessati vale a dire è importante che tutte le figure che fanno parte del processo di budget in qualche modo devono essere informati su quello che si sta costruendo quindi è importante che ci sia un processo di natura collaborativa e mai ovviamente in positivo all'interno dell'organismo ovviamente ci sono dei centri di responsabilità che sono delle unità organizzative espressi sia in termini economici e finanziari vale a dire i diversi centri di costo i diversi centri di profitto i diversi centri di investimento tutti conosciamo cos'è il centro di costo lo possiamo e ne parleremo dopo il centro di profitto in questo caso nel settore vitivinicolo può essere identificato come la la singola etichetta quindi andare a in qualche modo rilevare la marginalità della singola etichetta così come il centro di profitto potrebbero essere i diversi stabilimenti nel momento in cui un'azienda avesse diversi stabilimenti e quindi tracciare la marginalità sui diversi sui diversi stabilimenti per quanto riguarda è importante parlare anche degli investimenti nel momento in cui vengono in qualche modo portati a vendita i progetti di sviluppo e quindi di investimento acquisto di macchinari e quant'altro ovviamente sono i manager che sono i responsabili del reddimento che quell'investimento sarà conseguito nel corso del tempo come sappiamo l'investimento ha un impatto importante dal punto di vista finanziario mentre dal punto di vista economico sappiamo che l'impatto è minore in quanto andiamo a inserire soltanto le quote di ammortamento che vanno che vanno a generare i diversi costi sul piano economico sempre sul budget una cosa che volevo dire spesso alcuni mi chiedono ma noi vorremmo direttamente implementare un budget finanziario perché ovviamente le aziende spesso sono più sensibili alla questione finanziaria rispetto alla questione economica la risposta è sempre per implementare un budget finanziario dobbiamo prima lavorare sull'economico per poi tramutare tramutare i costi in chiave monetaria come dicevamo prima i centri di costo che potrebbero essere presenti in un'azienda di produzione partiamo dal budget commerciale che non è altro un centro di costo per quanto riguarda tutti i costi di natura commerciale vale a dire una serie di attività questi possono essere anche le attività di marketing possono essere le provisioni che eroghiamo ai nostri agenti ma in prima battuta quello che è importante formulare è il budget dei ricavi ovviamente un budget dei ricavi non come lo non come lo troviamo in un bilancio d'esercizio dove andremo a indicare la voce ricavi punto in contabilità industriale ovviamente dobbiamo dettagliare in base alla tipologia dei centri di profitto che vogliamo osservare quindi il ricavo potrebbero essere i ricavi generati dai singoli stabilimenti o dalle singole etichette se parliamo di vino imbottigliato tutto ciò normalmente nella contabilità generale invece lo indichiamo con una sola voce i ricavi d'esercizio punto quindi non possiamo cogliere in effetti quello che invece viene prodotto dai singoli diversi centri di profitto dal budget commerciale è importante avere il budget della produzione i budget di acquisti i budget del personale ovviamente è indispensabile rispetto alle ore dedicate dal personale dipendente in particolare mi riferisco alle persone che lavorano in ambiti produttivi così come budget dei costi generali racchiuso tutti questi budget formuliamo un budget economico complessivo dell'azienda dove a quel punto anticipatamente possiamo rilevare quale sarà il successivo anno l'utile o la perdita che l'azienda si attende ovviamente immaginiamo tutti che possa avere produrre dei utili implementato un budget di natura economica a quel punto è possibile implementare un budget finanziario quindi di tesoreria che ci potrà indicare i flussi attesi dall'azienda e quindi vuol dire la posizione finanziaria netta che all'azienda avrà mese dopo mese fino al 31 dicembre dell'anno successivo due parole proprio sul piano diciamo di produzione quindi serve è importante se vogliamo implementare quindi un budget di produzione partiamo dalle quantità da vendere quindi il budget delle vendite per poi capire qual è la produzione che l'azienda sarà in grado di produrre senza trascurare ovviamente la gestione delle scorte perché sappiamo che avere anche delle scorte troppo elevate sappiamo bene quali al contempo i costi che generano e quindi gli oneri finanziari seppur come diceva prima il presidente oggi compiamo il denaro a un tasso di interesse sicuramente più basso rispetto al passato ma allo stesso tempo oltre ai costi sappiamo che farsi finanziare comunque dai finanziatori c'è sempre un limite non è un fatemi passare il termine non è andare a chiedere finanza ai finanziatori ovviamente c'è sempre un limite che poi dopodiché è difficile continuare ad ottenere finanziamenti da parte dei nostri finanziatori dal budget come dicevo prima noi cosa rileviamo riusciamo a rilevare anticipatamente dopo a consuntivo con il successivo monitoraggio l'andamento del business per singolo settore per singola etichetta o per singolo stabilimento così come possiamo avere tirare fuori anche la marginalità per singolo per singolo cliente ma un'altra fase importante del controllo di gestione anche l'implementazione della distinta base che sicuramente tanti di voi conosceranno alla fine non è altro che la ricetta del prodotto che andiamo a confezionare nel caso preciso la slide che vedete è una distinta base rispetto a una una o sei bottiglie di cataratto tenete presente che i numeri che vedete sono numeri ovviamente inventati anche perché magari persone che sono presenti fanno questo per mestiere quindi potrebbero trovare anche dei numeri particolarmente strani ovviamente per realizzare una bottiglia o sei bottiglie di vino cataratto abbiamo bisogno di che cosa abbiamo bisogno di una di una bottiglia abbiamo bisogno dell'etichetta e singolarmente andiamo a tirare attraverso un sistema di gestionale andiamo a tirare direttamente dalle fatture di acquisto i costi che vengono di acquisto della singola etichetta della singola etichetta del tappo e così via quindi alla fine nella distinta base andiamo a inserire tutti i costi di diretta imputazione del prodotto per la realizzazione di una singola bottiglia la somma ovviamente della capsula così come il vino che andiamo a mettere all'interno della bottiglia il cartone l'alveare a lì dobbiamo poi cominciare a ragionare sul costo della manodopera nel momento in cui c'è personale dedicato alla linea di imbottigliamento quindi andare a misurare le ore di lavoro che servono per confezionare un certo un lotto produrre un lotto di prodotto così come i costi di ammortamento i costi di manutenzione rispetto ai macchinari che andremo a utilizzare quale potrebbe essere una linea di imbottigliamento e così via altra voce particolarmente dedicata sono i costi di energia e quindi bisogna andare a fare delle attività proprio per cogliere il costo dell'energia elettrica impiegata per produrre determinati lotti e un certo numero quindi di bottiglie allo stesso tempo abbiamo inserito in questo caso anche i costi del marketing seppur sono dei costi di diretta imputazione e alla fine non abbiamo altro che non abbiamo altro che il costo effettivo del prodotto che andremo a imbottigliare determinato il costo a quel punto i costi quindi di diretta imputazione a quel punto conosciamo bene il costo per la realizzazione della bottiglia e lì si può anche ragionare rispetto alla marginalità che vorremmo avere e quindi implementare anche i nostri listini di vendita ovviamente se conosciamo il costo diventa più facile capire qual è il prezzo che è il prezzo di mercato che non può essere ovviamente inferiore al costo di produzione tenendo presente che nella distinta base normalmente inseriamo solamente i costi di diretta imputazione del prodotto e allo stesso tempo sappiamo che abbiamo altri costi ovviamente che non sono di diretta imputazione al prodotto ma allo stesso tempo ottienano dei costi quali potrebbero essere i costi di marketing quali potrebbero essere i costi di natura amministrativa l'infrastruttura e così via dalla distinta base passerei a un qualcosa a mio giudizio diciamo più innovativo ma ormai moltissime aziende ne fanno uso che è l'utilizzo della BI le business intelligence che normalmente sono è uno strumento che è meglio se è integrato al sistema gestionale dell'impresa perché dal sistema gestionale in automaticamente riesce a far migrare tutti i dati sulla business intelligence e quindi avere delle slide dei report molto più veloci da osservare e quindi io immagino l'imprenditore il direttore generale che voglia avere delle informazioni in tempo reale e anziché di andare a interfacciarsi continuamente con le diverse figure aziendali quale può essere il CFO quale può essere il controller a questo punto si può ritrovare con estrema facilità sul telefonino rispetto al proprio PC delle informazioni utili per cominciare a ragionare e quindi avere in tempo reale seguire l'andamento e il monitoraggio della propria azienda in questa prima slide abbiamo una sintesi rispetto a al fatturato che viene generato nel corso del periodo dell'azienda vinicola in questione in questo caso riusciamo ad avere il periodicamente quale è il fatturato quale può essere ordinato e a contempo lo spedito presso i nostri i nostri clienti altra slide per esempio è l'analisi dei clienti della di una determinata azienda di una determinata azienda in questo caso nella BI nella slide che ho predisposto vediamo abbiamo messo insieme il fatturato generato per cliente rispetto a fatturato generato per cliente sull'anno sul precedente anno nella slide vedete sulla sinistra una cartina e da lì è possibile con facilità andare a capire dove abbiamo venduto in quale paese in questo caso parliamo dei diversi stati europei ma al contempo è possibile sapere conoscere in quale regione in quale provincia abbiamo generato un determinato fatturato rispetto ad un'altra regione la slide che vedete è stata abbiamo simulato diversi paesi quali l'Italia la Svezia e da lì rileviamo per esempio che l'azienda ha prodotto il 73% di fatturato in Italia il 16,1% in Svezia e così via allo stesso tempo in basso vedrete un certo numero di clienti e quindi da qui rileviamo che il cliente ha nel corso dell'anno indicato quindi nel 2020 del secondo semestre ha generato un fatturato pari a 1.283.000 contro 1.051.000 che aveva generato il precedente anno e pertanto rileviamo uno scostamento di 232.000 euro ciò che è importante è poi analizzare il perché abbiamo avuto questo aumento bene o perché nel secondo caso il cliente B abbiamo avuto una riduzione di fatturato rispetto all'anno precedente di 146.000 euro così come in ultima battuta vediamo che il cliente C ha maturato ha generato un fatturato di 306.000 euro nel corso in corso d'anno non ha generato fatturato nel precedente anno ma evidentemente perché questa è stata un cliente acquisito nel corso dell'anno quindi da qui possiamo anche rilevare i clienti che abbiamo acquisito nell'anno osservato alla fine la slide ci dice che in quel trimestre è stato generato un fatturato pari a 7.871.000 nel corso dell'anno contro 6.738.000 il precedente anno quindi un delta positivo pari a 1.232.000 ancora è possibile rilevare nella slide che vedete gli articoli che sono stati venduti in corso d'anno vorrei ripetere nuovamente quello che ho detto prima teniamo presente che questi dati arrivano direttamente da un sistema gestionale all'interno dell'impresa ma quindi questi dati li possiamo osservare anche utilizzando solo il sistema ma ovviamente diciamo diventa più difficile se facciamo migrare gli stessi dati su un ABI come vedete a mio modo di vedere è molto più molto più veloce andare a fare un'analisi rispetto a determinate poste di contabilità industriale nel caso degli articoli abbiamo inserito l'azienda in questione produce e vende sia vini sfusi sia vini imbottigliati allo stesso tempo anziché inserire vini bianchi vini rosati e quant'altro avremmo potuto mettere anche le singole etichette né sugli sfusi vediamo oltre a fatturato generato generato vediamo vediamo anche la quantità venduta e dall'altro lato troviamo sempre fatturate quantità venduta nell'anno precedente e allo stesso tempo possiamo rilevare il delta e a quel punto fare anche delle come dire delle analisi del perché si sono manifestati determinate condizioni sull'imbottigliato la stessa cosa vediamo il fatturato sugli sfumanti pari a 6530 contro una quantità venduta pari a 1795 nel corso d'anno e in questo caso osserviamo il dato rispetto all'anno precedente tenete presente che la stessa slide potremmo aggiungere il fatturato consuntivo fatturato anno precedente come possiamo aggiungere anche il fatturato previsto dal budget che abbiamo precedentemente definito alla fine sulla destra come vedete è sempre voglio dire interessante andare a vedere anche graficamente tutto ciò che abbiamo detto prima con un grafico veloce quindi avere una velocità e immediatezza della rilevazione del dato ancora un'altra slide che vorrei mostrarvi è che tutte le aziende sono normalmente sensibili parliamo ovviamente di costi variabili che è la gestione degli agenti quindi coloro che vanno in giro a vendere i nostri prodotti in questo caso ho immaginato un capo aria che gestisce un certo numero di clienti quindi abbiamo l'abbinamento agente clienti serviti dal capo aria così come clienti serviti da altri agenti in questo caso come vedete il capo aria ha generato in corso d'anno un fatturato pari a 463.000 euro e attraverso i clienti che vedete in basso quindi clienti 17-17 clienti 19-24 e così via sulla colonna accanto vedete lo stesso agente che l'anno precedente invece ha fatturato ha generato un fatturato pari a 474.000 quindi vediamo che al momento aveva generato o avuto un calo di fatturato pari a 2,40% è importante diciamo rilevare che allo stesso tempo quindi possiamo cogliere sia il fatturato generato dal singolo agente ma vediamo al contempo anche presso quali clienti e presso quale regione ha generato quel determinato fatturato in ultimo nella parte bassa sulla destra troverete vedrete che oltre a fatturato che è stato generato anche le provvigioni maturate dal in questo caso dall'agente che sono state pari a 43.000 euro quindi vedete che con questa con l'utilizzo di questo strumento sicuramente soprattutto chi non entra molto nei dettagli può avere come dire delle informazioni molto più veloci senza accedere a sistemi informativi aziendali basta anche perché un'ABI lavora in tempo reale quindi contabilità analitica contabilità generale aggiornata contabilità industriale aggiornata al momento stesso si aggiorna anche i dati che abbiamo riportato sulla sull'ABI in ultimo visto che abbiamo parlato di budget è possibile quindi avere in maniera sempre veloce e avere un consultivo di budget in questo momento abbiamo indicato solo il budget rispetto al fatturato ma immaginate una slide molto più ampia dove troviamo oltre al budget quindi al consultivo troviamo il budget per le singole voci di contabilità analitica quindi vale a dire non solo il fatturato ma anche tutti i costi a cascata rispetto agli argomenti che abbiamo in qualche modo tracciato prima nel caso preciso pesiamo che i vini bianchi hanno avevamo immaginato un budget di vendita pari a 39 460 abbiamo consultivato ricavi per 37 690 per cui in questo precedente l'azienda ha avuto un delta negativo pari a 1 770 in sostanza lo abbiamo in questo caso è stato definito solo per ripeto per il budget e dei ricavi ma al contempo lo possiamo avere per tutte le voci e quindi man mano vediamo sulla destra con il grafico l'avanzamento rispetto allo stato dei budget sia in termini di ricavi che in termini di costo quello che è importante evidentemente su un ABI possiamo avere dei dati consultivo preventivo storico diventa difficile ovviamente fare delle analisi le analisi poi andranno fatte successivamente quando poi ci ritroviamo in azienda e facciamo dei ragionamenti poi abbiamo una fotografia invece rispetto alla situazione in quelle precede stande tenete presente ciò che è importante è andare a parlare andare ad analizzare questi numeri con un'implementazione di questo tipo ovviamente questa reportistica l'azienda può averla mese su mese quindi non aspettiamo mai il 31-12 per conoscere come sta andando i nostri flussi di cassa come sta andando il nostro conto economico da lì avendo in dati pensate che l'azienda se si trova nel mese di marzo è l'andamento è peggiorativo rispetto a come lo immaginiamo evidentemente l'azienda è in grado di poter prendere delle decisioni in tempo reale e quindi in qualche modo sterzare affinché poi si possa raggiungere il risultato che avevamo immaginato all'inizio dell'anno in ultima battuta vi faccio vedere pure delle slide che abbiamo costruito sulla sinistra troviamo un conto economico generale dell'azienda ovviamente parliamo di voci di contabilità industriale non sono state inserite tutte perché poi metterle sulle slide veniva un po' più complicato venivano delle slide molto grandi quindi non riuscivate ad osservarle sulla sinistra vediamo quindi un conto economico generale mentre sulla destra vediamo gli stessi dati ma ripartiti sulle due singole BU quindi abbiamo due BU una che riguarda i vini sfusi una che riguarda i vini imbottigliati quindi al qual punto l'azienda è in grado di sapere a carattere generale la marginalità che viene data dai vini sfusi così come la marginalità che viene data dal vino imbottigliato alla fine della slide troverete dei ribaltamenti dei percentili funzionali percentili ausiliari perché evidentemente quando andiamo a fare contabilità industriale dobbiamo successivamente creare attraverso degli indicatori quindi dei costi drivers che andranno a ribaltare determinati costi sulle singole unità di business che andiamo a monitorare faccio un esempio se andiamo il personale amministrativo e un personale amministrativo generico però se lo vogliamo ribaltare sulle diverse BU ovviamente dobbiamo fare delle attività che ci consentono di spostare i determinati costi in percentuale rispetto alle singole BU che vogliamo osservare in questo caso i vini sfusi e i vini imbottigliati ma così come potremmo avere le singole etichette che l'azienda commercializza infine un'ultima slide invece riguarda in questo caso abbiamo considerato come singola business unit e la marginalità su singolo stabilimento se immaginiamo due stabilimenti abbiamo lo stabilimento A e lo stabilimento B e da lì si riesce a cogliere cosa produce in termini di fatturato uno stabilimento rispetto ad un altro ovviamente con dei criteri di ribaltamento andiamo a capitare a capire qual è la marginalità del singolo stabilimento e quindi l'azienda a quel punto è in grado di poter capire bene se uno stabilimento rende così come lo avevo immaginato o diversamente se invece uno stabilimento possa portare delle perdite rispetto ad un altro ma questo non vuol dire evidentemente il default dello stabilimento ma vuol dire magari riprogrammare i costi in maniera diversa di uno stabilimento rispetto ad un altro perché da punto di vista magari organizzativo c'erano delle lagune ma grazie a questo riusciremo sicuramente a ripristinare quell'eventuale lagune su uno stabilimento rispetto ad un altro come dicevo prima in premessa e mi avvio alla conclusione come sapete l'articolo 2086 che parla di gestione della crisi d'impresa tra l'altro a causa del momento che stiamo vivendo è stato spostato in avanti ovviamente dice in maniera chiara che l'azienda deve dotarsi di aspetti organizzativi amministrativi e contabili e adeguati quindi oggi noi parliamo di controllo di gestione ma allo stesso tempo ne parlerà pure il collega dopo di me parliamo anche di aspetti organizzativi per implementare un modello di controllo di gestione efficace efficiente ovviamente è indispensabile che l'azienda sia organizzata parlo di organizzazione aziendale per parlare anche di procedure e processi che ovviamente sono utili non solo all'interno dell'organizzazione ma anche per implementare modelli di controllo di gestione così come li ho immaginate nelle slide precedenti altro fatto abbastanza fondamentale è avere degli adeguati sistemi informativi e ovviamente delle piattaforme che consentono di monitorare in maniera puntuale anche i flussi di cassa quindi parliamo di budget economico ma come flussi di cassa e allo stesso tempo di pianificazione economica quando parlavamo a proposito di organizzazione quindi richiesta che ci sia un organigramma aziendale per funzione che abbiamo dei flussi informativi attendibili analisi di rischio quindi punti di forza e di debolezza dell'azienda e soprattutto avere dei report che abbiano una frequenza almeno trimestrale io dicevo prima ma l'obiettivo è quello di avere dei report mensili quindi lo scopo qual è? Lo scopo è quello di rilevare eventuali segnali di crisi e imbostare una strategia per riportare l'equilibrio sia dal punto di vista economico patrimoniale che finanziario in l'articolo dice che l'assetto organizzativo amministrativo e condabbi deve consentire all'imprenditore la verifica dell'equilibrio economico e finanziario e quindi di una gestione non solo consuntiva ma prospettica alla fine questo lo possiamo racchiudere con un'implementazione di un modello di controllo quindi di contabilità analitica e di contabilità industriale per concludere metto per concludere metto una ultima slide un articolo apparso su Sole 24 ore già lo scorso anno dove in qualche modo si parlava dell'importanza del controllo di gestione e appunto quindi di un'implementazione di contabilità industriale o di contabilità analitica io con questo concludo ma spero di essere stato chiaro e in qualche modo spingere le aziende a dotarsi di sistemi di controllo di gestione e allo stesso e allo stesso tempo di attivare procedure organizzative importanti che ovviamente all'azienda alla fine non danno altro che una maggiore credibilità anche attraverso questi strumenti che in qualche modo vanno anche condivise fatemi passare il termine anche con i finanziatori sapete bene che i finanziatori ovviamente quando finanziano un'impresa ovviamente l'impresa maggiore credibilità maggiore e maggiore strumenti si hanno più facile dipende a trasmettere consegnare tra virgolette ai finanziatori reportistica che si è in grado di calcolare anche il rating da assegnare alla singola impresa io con questo concluso spero di essere stato chiaro se ci sono domande rimango a disposizione grazie grazie se puoi togliere la condivisione dello schermo io non mi avvarrò di slide però appunto i contenuti di questo webinar vi verranno trasmessi tramite mail con il link al video abbiamo giusto sette minuti quindi io non mi addentrerò in discussioni molto tecniche d'altronde sarebbe altrimenti esuberante rispetto agli obiettivi di questo incontro e mi limiterò invece a tracciare un ragionamento il ragionamento è che 150 diversamente da molte strutture bravissime sia sul controllo di gestione che l'organizzazione aziendale cerca di tenere sempre unite questi due mondi quindi questi due mondi che solo all'apparenza è facile tenere unite normalmente il controller va per la sua strada mentre chi si occupa di organizzazione va per l'altra strada quindi tenere unite queste due mondi vuol dire far sì che quanto analizzato appunto grazie ai modelli che il dottore D'Amico ci ha appena esposto possa trovare poi un luogo magari tramite riunioni in team con le figure apicali magari tramite riunioni più operative con chi materialmente mette mano alle cose da fare affinché questi numeri vengano discussi nelle sedi appropriate noi ogni giorno compiamo uno sforzo improbo affinché i numeri analizzati divengano la materia prima di un lavoro che viene fatto insieme perché altrimenti diventa solo la frustrazione di qualcuno che conosce un'informazione non sa cosa farsene quindi il vero pericolo del controllo di gestione slegato dall'organizzazione che so tutto ma non so cosa devo fare tenere insieme l'organizzazione il controllo vuol dire far sì che l'azienda nel suo insieme con le persone delle quali è dotata con le competenze che pian piano aiutiamo a crescere sia capace di sfruttare sempre meglio queste indicazioni sia capace di guardare un numero e prendere una decisione quello che poi considereremo KPI ora un KPI che funziona è un KPI la cui osservazione mi porta all'azione spesso abbiamo dei KPI che non conducono a nessuna decisione quando si accende la spia dell'automobile non ho alcun dubbio sul fatto che devo andare a fare rifornimento quindi a un KPI spia rossa so che si conduce l'azione portare la macchina dal primo bensinario possibile spesso invece guardiamo dashboard più o meno complesse frutto di ragionamenti non del tutto maturi da parte del management aziendale ma se il controller assecondasse questa esigenza produrrebbe tanti numeri senza poi dire qual è la spia accendendo la quale otteniamo realmente un dato utile da guardare quindi innanzitutto come già appunto diceva Filippo io rafforzo questo concetto deve essere chiara la strategia aziendale dove vogliamo andare definirà gli obiettivi e quindi anche lo scostamento da questi obiettivi definirà l'indicatore di performance la strategia si fa però con le persone non si fa da sola per cui le persone rappresentano indossano dei ruoli con le proprie competenze quindi questi ruoli devono essere adeguati le persone devono avere le competenze necessarie per portarla avanti ma soprattutto anche i ruoli possono cambiare nel tempo perché cambiano le esigenze quindi definire una struttura organizzativa definire i manzionari definire l'organigramma definire le procedure non è sufficiente una volta definite gli organigrammi i manzionari e le procedure è necessario che l'azienda si ponga periodicamente alla domanda le procedure che ho messo in piedi mi servono ancora perché se questa domanda se la pone in maniera organica adeguerà le procedure alle nuove esigenze se non si pone mai questa domanda avremo attaccato al muro un organigramma mentre la realtà va da un'altra parte e io con le persone faccio altro quindi l'unica maniera attraverso la quale creare un percorso virtuoso è che si crei una cabina di regia che periodicamente metta in discussione gli indicatori performance che erano utili l'anno scorso metta in discussione le procedure che erano utili l'anno scorso perché potrebbero essere non utili quest'anno e quindi a quel punto adeguare l'assetto organizzativo vuol dire adeguarsi ai tempi che cambiano e oggi è quanto mai centrale questo aspetto perché a un mondo sempre più caotico deve rispondere a una capacità di analizzare questo mondo caotico e prendere delle decisioni oggi l'innovazione si fa metro per metro in azienda combattendo con le resistenze al cambiamento che evidentemente ci troviamo lungo la via un cliente qualche giorno fa si rende conto che di due business uno non funziona l'altro va benissimo e il business che non funziona comporta avere un magazzino che tutto sommato essendo di proprietà potrebbe affittare appena appena gli ho detto l'idea che il suo lavoro si possa svolgere in un ufficio e non ha più bisogno del magazzino che può affittare non l'ha reso felice lo ha intristito lo ha scosso perché perde una routine alla quale è abituato da molto tempo quindi attenzione che le strategie sono fantastiche il controllo è meraviglioso ma poi gli uomini fanno le cose e per farle dobbiamo assecondare una crescita costante nell'innovazione dell'azienda ecco noi teniamo insieme questi due mondi e non è mai un gioco da ragazzi ma è un gioco molto divertente da giocare bene io ho chiuso nei tempi previsti per cui abbiamo solo un minuto vedo qua qualcuno che ha scritto una domanda vediamo buonasera l'incontro risulta molto interessante non posso seguirlo fino alla fine è possibile ricevere via mail il link a registrazione? sì assolutamente sì riceverete il link alla registrazione il tempo che montiamo il tutto e ve lo possiamo spedire bene a questo punto io non interrompo come dire non vado oltre un breve scambio tra i relatori la mia l'ho detta e quindi mi taccio qui partendo da Filippo D'Amico e conclude Sebastiano Di Bella e ci salutiamo buonasera posso chiudere solo come dire seguendo quello che hai detto tu non sopravviveranno i più forti ma solo coloro che riescono ad adattarsi al mutare dei tempi quindi buon lavoro a tutti grazie grazie Filippo la mia conclusione è sicuramente in ando di ringraziare tutti i partecipanti oltre i relatori che hanno accettato questo nostro invito e come dire quello che dicevi tu che è fondamentale ovviamente c'è le risorse mani all'interno dell'azienda quando è importante che si possano interfacciare tra di loro perché quando parliamo dicevamo prima se andiamo a in qualche modo implementare il budget dei ricavi risulta impossibile che viene lasciato solo in mano al responsabile commerciale ma è bene che si interfacci con i responsabili di produzione allo stesso tempo con i responsabili marketing se voglio fare crescere i miei ricavi sicuramente dovrà fare delle azioni di marketing importanti e allo stesso tempo programmare la programmazione quindi oltre che ragionare dal punto di vista economico quando è importante l'organizzazione aziendale quindi creare delle aule tra virgolette dove più persone nel momento in cui andiamo a implementare questi sistemi possono fare dei ragionamenti comuni nell'interesse ovviamente dell'azienda grazie presidente a lei la chiosa grazie complimenti siete stati estremamente chiari estremamente preziosi io riporto semplicemente quello che diceva un detto che diceva se fosse un economista questo però non ne sono sicurissimo diciamo che cade calza perfettamente con quello che è stato detto e cioè conoscere per deliberare se io so quali sono i miei problemi e com'è la realtà aziendale probabilmente diciamo mi muovo meglio ecco in questo senso voi siete assolutamente essenziali grazie e alla prossima volta grazie a tutti grazie a tutti buonasera arrivederci arrivederci